Buondi! Oggi la sveglia è tornata presto alle 5. Ho preso tre medi di trasporto per arrivare al punto di partenza. E niente, questo è un mini vlog, benvenuti sul mio canale e vi porto un po' con me durante le mie escursioni in sediteria. E in questi giorni andrò per rifugi e bivacchi, poi probabilmente mi raggiungeranno altri due miei amici. E niente, questo è il panorama. Proseguiamo. Ciao! Laggiù circa inizia il canalone. Speriamo non ci sia troppa neve e vi aggiornerò. Essendoci ancora un sacco di neve, io mi sono portata ramponi, anche il casco, visto che sono sola. Io non ci sia mai. E quindi niente, vi aggiorno e vi dirò un po' le condizioni di neve. Diciamo che preferisco le zone più calme. Però adesso, visto che c'è ancora neve, il turismo è poco. Quindi ne approfitto perché è un posto assurdo. Assurdo! Arriviamo a 2003 e questa è la situa neve. Non è maluccio. Casco e via. Arrivata a rifugio. Situazione neve. Questa. Pian piano si fa tutto. 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 Quota quasi 3.000 Mi sono messo i tamponi Ho anche una piccozza Per non scivolare Casco E si prosegue su di qua Questo posto è assurdo Sembra di essere in un pianeta extraterrestre Vi mostro la cima davvero prima E' quella laggiù Adesso faccio un mega zoom Grazie a tutti Grazie a tutti Mio amore Ciao 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 Sotto la marmolada Ciao 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 Ciao